Ma sarà vero che Meghan ha mentito quando ha affermato di non aver mai fatto piangere Kate Middleton? Nell'intervista del 2021 Oprah disse a Meghan, tu dici che la storia con Kate non è mai avvenuta, ma allora hai fatto o no piangere Kate? Meghan disse no. Oprah insistette, ma allora da dove è saltata fuori questa storia? Era una situazione in cui Kate potrebbe aver pianto o magari ha pianto? Meghan fu lapidaria, disse no no, in realtà è successo il contrario, cioè Kate avrebbe fatto piangere lei. Ma andiamo a vedere cos'è successo davvero attraverso le parole di Harry. Questo è un estratto del libro Spare in cui si racconta un incontro chiarificatore in merito alla vicenda in cui erano presenti William, Kate, Harry e Meghan. Ve lo leggo. Kate spostò lo sguardo verso il giardino, stringendo i bordi della panca con tale forza che le nocchile erano diventate bianche e disse che le dovevamo delle scuse. Maggie chiese, per cosa? Hai urtato i miei sentimenti, Meghan. Quando? Ti prego, dimmi. Ti ho detto che non riuscivo a ricordare qualcosa e tu hai risposto che dovevano essere gli ormoni. Di cosa stai parlando? Kate citò una telefonata in cui avevano discusso la tempistica delle prove del matrimonio. Maggie disse, ah sì, ora ricordo, non riuscivi a rammentare qualcosa e io ti ho detto che non era grave, che era il baby brain perché avevi appena avuto un bambino. Sono gli ormoni. Kate spalancò gli occhi. Sì, hai parlato dei miei ormoni. Non siamo abbastanza intime perché tu possa parlarmi dei miei ormoni. Anche Maggie spalancò gli occhi, sinceramente confusa. Mi spiace aver parlato dei tuoi ormoni. Io mi comporto così con le mie amiche. Maggie disse che non avrebbe mai intenzionalmente fatto qualcosa che potesse ferire Kate e, se era accaduto, chiesi a Kate di dirglielo per evitare che potesse succedere di nuovo. Allora, a prescindere dalle opinioni, Harry qui ci riferisce di una Kate nervosa che pretendeva delle scuse perché ancora si ricordava dell'episodio essendone rimasta ferita. Lo dice in maniera diretta a Megan, ma lei nell'intervista ha sostenuto di non aver fatto nulla che potesse aver fatto piangere Kate. Infatti, dalle sue parole nel momento del confronto, risulta chiaro che Megan non pensa di aver sbagliato. Sta dicendo a Kate che non voleva ferirla, ergo se ne è rimasta ferita è colpa sua. E Kate deve avvertirla una prossima volta, perché per lei è inimmaginabile capire che cosa possa urtare la sua evidentemente eccessiva sensibilità. Voi che ne pensate? Ritenete che non sia offensivo dire a una donna che non ragiona con chiarezza perché ha appena avuto un figlio? Siete dalla parte di Megan o da quella di Kate? Seguitemi qui e sul tubo per approfondimenti. Ce n'è da dire!